buongiorno e buona giornata e soprattutto buon fine settimana a voi tutti cari amici bene mi sono alzato ovviamente facendo facendo come di consueto il carico di notizie soprattutto di pro wrestling allora innanzitutto d'ora innanzi almeno fino ai primi di luglio raw smackdown ed nxt saranno rigorosamente pre registrati come dovrebbe essere anche per i pay per view e a proposito di pay per view in riferimento a money in the bank una breaking news lanciata dalla federazione nelle scorse ore le valigette saranno posizionate proprio nella parte del tetto dell'edificio di stanford edificio principale della federazione quindi match con le valigette partiranno dal piano a terra fino ad arrivare all in su poi per quanto riguarda la puntata che si è svolta nella notte di smackdown innanzitutto confermato brown stroman contro the fiend break white 1 contro 1 per il titolo universale a money in the bank seconda cosa tamina snook abbattuto sasha banks e quindi di diritto affronterà belli a money in the bank per il massimo titolo femminile di smackdown a money in the bank terza cosa che mi ha fatto ancora più felice è che il il new day si il new day ha abbattuto diciamo gli usos e demise john morrison e quindi è diventato non so forse credo per l'ottava volta campione di coppia di smackdown biggie e kofi kingston per i match delle valigette abbiamo ovviamente dei nuovi contendenti per quello maschile daniel bryan che abbattuto cesaro per quello femminile dana brook che abbattuto naomi inoltre vediamo un po se diciamo che facendo un ragionamento in avanti si potrebbe dire che nel caso in cui l'emergenza della pandemia del corona virus intorno a metà fine luglio dovrebbe essere alzerata o comunque la situazione sarà più tranquilla credo che presumibilmente magari sempre con le distanze di sicurezza potrebbero riprendere gli show live in diretta come anche in peperbio non più senza pubblico ma con una rete potremmo dire semi piene questo perché perché come noi cari appassionati della dub da b sappiamo ad agosto il mese più caldo oltre che dell'estate della dub da blue con lo show degli show estivi summer slam quindi anche perché poi per esempio ho letto anche dalla notizia per quanto riguarda presto almeno 37 che è proprio lì ad hollywood los angeles è stato bloccato tutto fino a quando appunto la situazione non rientrerà quindi bisognerà vedere se l'anno prossimo presto almeno avrà lo stesso destino di quella di quest'anno ovvero a porte chiusa al performance center oppure di una location diversa però ci sarà tempo debito per parlare di questo io vi invito a seguire i miei canali social youtube facebook instagram e twitter inoltre vi ricordo come anche insomma fatto in tutte le salse di uscire per motivi strettamente necessari ed essenziali da casa fare la spesa andare al lavoro comprare i farmaci sono come tutti quanti voi speranzoso e cerco di essere più fiducioso possibile perché diciamo che se dal 4 maggio come tutti noi speriamo ci si possa riprendere ad uscire gradatamente magari che ne so non più di due barra tre volte al giorno soltanto con un'altra persona ovviamente con un metro un metro e mezzo di distanza speriamo bene anche perché se devo dire la mia per quanto riguarda il mare le vacanze estive beh abbiamo problemi ben più gravi ma non perché l'hanno detto in tantissimi perché è vero certo il mare fa bene andare in vacanze in montagna in villeggiatura altrettanto però abbiamo una situazione sempre in continua trasformazione in divenire in evoluzione quindi poi è ovvio che nel momento in cui sarà trovato il vaccino per il coronavirus bisognerà capire come saranno predisposti medici infermieri dottori per eseguire i vaccini a noi tutti perché poi da dopo sarà fondamentale anzi una cosa proprio vitale tutti quanti noi che dobbiamo vaccinarci per chiudere in conclusione oggi per quanto riguarda il mio angolo della schedina ho le due partite del massimo campionato della bielorussia batte borisov zodino uno parziale 1 finale a 2 30 e poi un po la quota pazza videbsk brest x parziale 1 finale a 10 ricordo come ieri purtroppo il nostro angolo della schedina si è partito male con l'errore di soligorsk slask finita 1 a 2 invece io avevo 1 parziale 1 finale a 2 a 10 ma in realtà lo slask era già in vantaggio per due reti a 0 dopo i primi 45 minuti poi inoltre soligorsk ha sbagliato un calcio di rigore poi è riuscita solo a segnare il gol della bandiera a pochi minuti dalla fine bene con questo è tutto inoltre vi ricordo che oggi arriverà anche un altro match commentato da me e vediamo se non la sintesi proprio di tutta la puntata come si dice la sintesi della sintesi della puntata della nottata di smackdown comunque alcuni eventi risultati importanti ve li ho detto quindi la card di monet bank inizia ad allinearsi anche perché comunque insomma oggi è 18 quindi più o meno ne abbiamo per un'altre 15-20 giorni prima del preview ovviamente presumo che dovremmo arrivare almeno tra i 7 8 match massimo massimo 10 match per il resto cerchiamo di vivere bene questo periodo come credo stiamo facendo già da un mese e mezzo due mesi vi ringrazio per il vostro sostegno che mi date sempre e niente poi ci becchiamo quando prima su questo mio canale youtube buon proseguimento di giornata buon fine settimana a tutti ricordo per ultimissimo poi chiudiamo domani la giornata della divina misericordia mi raccomando non lasciamo da parte la fede la spiritualità ovviamente domani appuntamento come ogni giorno col papa francesco poi con la santa messa e l'angelus ovviamente tutte quante le parrocchie tramite facebook instagram e quant'altro dirette messe ad orazioni anche il rinnovamento nello spirito santo è molto attivo quindi dal vostro dal vostro nicola da lucia è tutto alla prossima buon proseguimento di giornata e ci vediamo per altri video ciao ciao